A me solo una bottiglietta mi poteva fermare ieri, purtroppo è nata così giù, forse è un po' anche una mia svista, un po' di sfortuna, però me la sono trovata direttamente sotto il piede, ho preso questa stotta, mi si è girato completamente il piede, ho sentito tanto male, però c'era la qualifica per gli olimpiadi, è una squadra, non mi andava di fermare, quindi ho fatto circa 8-7 km con dolore, cercando anche di recuperare un po' lo svantaggio che purtroppo avevo preso perché mi sono fermato, ho cercato di capire qual è il problema, ho avuto male, ho preso un antinfiammatorio al volo anche dal doc, 2 km dopo, ma non ha fatto nessun effetto, e quindi ho dato il cambio ad Antonella, sono andato a farmi il controllo dei fisioterapisti, la cosa non era molto buona, appena successo da Lettino ho avuto tanto male al piede, e comunque ho voluto provare a camminare, a marciare perché volevo ripartire tutti i corsi, però poi abbiamo deciso tutti insieme che in fase di spinta avevo male, quindi probabilmente sarei partito, avrei fatto ulteriori danni al mio piede e non avrei comunque completato la staffetta, comunque avrei fatto un danno magari più irreparabile, visto che le Olimpiadi comunque ci voglio andare con tanta voglia.